Per quanto riguarda la cura della barba, partiamo da il sapone. Il sapone all'olio di mandorla, fatto secondo una antica formula che abbiamo appunto mantenuto negli anni. Da quando il prodotto è rivendibile al nostro pubblico abbiamo deciso di creare due prodotti da questa formula di sapone. Un sapone, che noi definiamo sapone in crema, che viene emulsionato per parecchio tempo e permette di formare una spuma che dopo viene essiccata all'interno di alcuni barattoli. Un altro invece viene fatto assagionare come se fosse del formaggio, creando delle saponette da barba. La qualità di entrambi i saponi è identica. La funzionalità può essere diversa, nel senso che la saponetta, avendo una grammatura che è inferiore rispetto all'altra, può essere più comoda da portare in viaggio. Per far sì che la rasatura venga fatta in una maniera ottimale serve sempre un pennello di qualità. Noi abbiamo un pennello con le setole di maiale perché hanno maggiore forza, sono più rigide, permettono un massaggio più profondo, permettono anche di fare una saponata che abbia una schiuma anche più soffice e soprattutto durano negli anni. Poi abbiamo una crema dopo barba al mallo di albicocche, ha assolutamente un effetto lenitivo e quindi va a combattere tutte quelle irritazioni degli arrossamenti che ci possono essere per una barba dura. Partendo da questa formula siamo arrivati a creare però recentemente una linea di latte dopo barba che hanno tre fragranze diverse, ovvero quella dell'olio di mandorla, il sandalo rosso e il tabacco verde. Si tratta di latti che quindi hanno la caratteristica di essere molto più leggeri rispetto a una crema e anche più facilmente assorbibili dalla pelle. Il nuovo prodotto per gli uomini che portano i baffi è la cera per i baffi, che permette di poter dare al baffo la forma che si desidera e permette soprattutto di fare quelli che vengono definiti manubri e ricci. Grazie